esiste un concetto che fa parte diciamo della visione di mondo buddista della filosofia buddista un concetto semplice che credo che si trovi anche in diverse altre realtà e visioni di mondo che dice non esistono risultati senza che ci siano state le cause non c'è nulla che possa esistere senza che le cause per questa cosa esistere in questo modo siano state in un certo momento in un certo luogo in un certo modo create generate quindi nulla viene dal nulla e di conseguenza nulla finisce in nulla quindi questa è anche una frase che in occidente è conosciuta nulla viene da nulla nulla finisce nulla tutto si trasforma nulla comincia nulla finisce tutto si trasformano e quando noi diciamo ok perciò qualunque cosa che avviene è perché ci sono state delle cause che li hanno create le cause riguardano il passato il presente è il luogo il momento nel quale noi viviamo il risultato del passato e stiamo sperimenti creando le condizioni per far maturare il futuro immediato e stiamo anche creando le cause per il futuro più lontano questo è quello che accade nel momento presente è uno dei concetti molto importanti all'interno della pratica buddista eccetera è quella di se voglio avere un certo tipo di risultato devo fare un certo tipo di cause perché non manca la coerenza se dico voglio avere quel risultato lì ma le cause per quello non li creo non funziona anche perché c'è un'altra regola per modo di dire che io non posso sperimentare ciò per il quale io stesso non ho creato le cause i risultati si sperimentano nella sensazione la sensazione che è o piacevole o spiacevole sono due principali tipi di sensazione poi c'è la terza che quella neutra però prevalentemente abbiamo sensazione piacevole o spiacevole sofferenza queste sensazioni che noi abbiamo piacevole spiacevole sono quelle tramite il quale noi sperimentiamo il mondo la realtà che ci circonda sono la base per noi per generare attrazione o avversione tramite tramite la sensazione che noi andiamo a giudicare dire questo mi piace o non mi piace va bene non va bene si dice noi sperimentiamo la realtà tramite le sensazioni ok noi giudichiamo tramite il discernimento però noi sperimentiamo tramite le sensazioni perciò se voglio avere delle sensazioni piacevole devo creare le cause per le sensazioni piacevole se voglio evitare una sensazione di sofferenza devo smettere di creare le cause per avere delle sensazioni di sofferenza in realtà è molto semplice basta guardare da un punto di vista abbastanza più grossolano la nostro corpo e la nostra salute fisica con la conoscenza che ognuno di noi ha io non so quanti di noi siamo dei grandi esperti del corpo della salute tutto il resto io non lo sono però del poco che io ho potuto vedere conoscere ci sono diverse cose che io so che mi farò bene e credo che così è per tutti no credo che non siamo più bambini che non sappiamo discernere anche se mia mia non mi hanno detto una volta che i bambini neonati piccoli piccoli con pochi mesi di vita sanno di scegliere molto bene quale cibo li fa bene o meno io so questo perché quando ero molto piccolo mia madre aveva avuto questa indicazione dal medico che seguiva il pediatra che serviva e aveva detto che il meglio per il bambino quando era piccolo era di mettere diversi tipi di cibi davanti quindi con vari colori eccetera eccetera e poi è il bambino piccolo non so di quanti mesi a scegliere quale doveva mangiare e la cucina diventava un caos perché io lanciavo cibo di qua giocavo eccetera però alla fine ogni volta sceglievo io cosa mangiare no e questo apro e chiudo la parentesi mi fa riflettere che il palato ha una funzione in realtà qual è la funzione del palato poter discernere le caratteristiche di ciò che mangiamo perché tramite il palato quello se il gusto è dolce piuttosto che salato piuttosto che amaro rappresenta delle caratteristiche che quell'alimento ha quindi noi potremo sapere che tipo che cosa il nostro corpo ha bisogno e poter sceglierlo tramite il palato noi oggi da adulti utilizziamo il palato come uno strumento di discernimento o come uno strumento per ottenere piacere prevalentemente per il piacere il palato serve perché per avere piacere punto come se l'ho detto fosse solo per sentire cose buone piacere in realtà i nostri sensi ci aiutano a interagire con la realtà intorno a noi con il mondo e il corpo ha dei suoi sensori chiamiamo così meravigliosi il palato ha una capacità incredibile nella medicina tibetana ci sono se mi ricordo bene sono 64 gusti diversi che ci sono sei gusti principali che vengono poi sono tutte l'insieme di loro ogni cosa quindi ogni pianta anima parte animale piuttosto che minerale eccetera ogni cosa che possiamo mettere in bocca in poche parole ha tre gusti il gusto quando lo mangi il gusto durante la digestione e poi c'è il retro gusto durante il momento che si mangia sono comunque sono tre tipi di gusti adesso mi sfugio uno bene e figuriamoci gli antichi in tibet che studiano medicina tibetana ha una fissa con i gusti perché secondo loro dal dal gusto si può sapere le caratteristiche di quello per la guarigione e loro prendevano facevano dei digiuni con abbastanza lunghi per tenere e facevano dei processi per pulire il proprio intestino e tutto il resto poi mangiavano unicamente di certi tipi di cose e poi li facevano uscire per riprovare il gusto e vedere cam cosa come cambiava per capire l'effetto che quello faceva una volta ingerito e digerito perché certe cose che inizialmente sono di natura amara diventano dolci piuttosto che il contrario inizialmente dolce poi diventa acido e adesso io non mi ricordo più ho studiato un attimino queste cose ma non mi ricordo tutto questo per dire che il palato in realtà ha una funzione che noi più o meno l'abbiamo dimenticata perché siamo troppo attaccati alla sensazione piacevole anche il tibetano poi alla fine hanno un proverbio che dice che vuol dire tutto ciò che è dolce è veleno tutto ciò che è amaro è medicina poi ovviamente stiamo generalizzando qua no però se seguissimo questo male non ci farebbe di solito le cose amare fanno bene al fegato e con lo stile di vita che facciamo credo che la maggioranza di noi abbiamo bisogno no e le cose dolce alla fine non fanno bene e lo sappiamo o no la maggioranza di noi sa che mangiare troppo zucchero fa male o no e quello che succede è che noi abbiamo diverse conoscenze che noi sappiamo cosa fa bene non fa bene noi sappiamo che se io voglio evitare un certo tipo di malattie devo evitare un certo tipo di comportamento di dieta eccetera no riusciamo a seguire bene alcune cose sì altre cose no però uno dei punti fondamentali è se voglio avere quel tipo di risultato devo coltivare quel tipo di cause se voglio evitare quel tipo di risultati devo evitare quel tipo di cause è molto semplice in realtà concettualmente e nel nostro piccolo le cose che man mano impariamo e vediamo dove noi vediamo che c'è questa correlazione dove impariamo questo porta quello meglio che non lo faccio perché perché vedo che c'è quel risultato e quel risultato non lo voglio la nostra difficoltà è che noi molto spesso non riusciamo a fare i collegamenti a medio e lungo termine vediamo le cose più all'immediato abbiamo una visione più ristretta e quindi ok faccio questo al momento immediato mi sembra che va bene poi ma quali saranno gli effetti a medio e lungo termine ma non lo so non capisco e non do così tanta importanza a quello difficilmente riusciamo a avere una visione a lungo termine di quello che noi facciamo però allo stesso tempo quello che accade è che viene detto che le azioni che noi compiamo e i risultati che queste azioni porteranno sono coerenti esiste una coerenza fra azione e risultato perciò se io agisco in un modo che genera uno stato di benessere che sia basato sull'amore sulla generosità sulla gratitudine e basta vedere quali sono quegli stati interiori quelli stati mentali emozionali che quando generiamo quando sono presenti sentiamo anche il corpo e la mente più rilassati più non solamente gioiosi ma anche fisicamente c'è una differenza qual è la differenza fisica di quando uno è senti un sentimento d'amore o quando ha un sentimento di odio fisicamente simile quando c'è amore qual è la sensazione fisica è una sensazione di te il corpo è teso no c'è spazio c'è energia uno si sente bene anche se c'è un dolore non lo sente quasi no è una sensazione che dà un'energia dà un sentimento di benessere il sentimento di amore e quando c'è rabbia odio fisicamente qual è il processo uno si rilassa di solito crea un'attenzione uno sente un peso no anche se dice no mi stringe il cuore come la tristezza anche dall'altra parte e ci sono dei sentimenti la paura la rabbia l'odio l'arroganza anche non è un sentimento di rilassamento difficilmente uno si mette con superiorità all'altro ed è rilassato no quindi uno dei miglior modi secondo me per capire cause e risultati è vedere nel momento di quelle emozioni di quegli stati interiori il nostro corpo come reagisce perché questo ci permette di andare un pochettino oltre l'aspetto come si può dire più religioso piuttosto che moralista no questo si può quello non si può a questo è negativo perché perché così è stato detto probabilmente giusto però molto spesso noi facciamo fatica ad accettare noi vogliamo capire le cose ci esiste un po questo in tempo in cui siamo perciò se noi semplicemente permettiamoci di osservare il nostro corpo e se noi riuscissimo a coltivare quegli stati mentali emozionali interiori in cui il corpo sta bene si rilassa ed è più in pace con se stesso e dall'altra parte cerchiamo di evitare quelli che vanno a generare tensione quali sono quelli che generano tensione ansia paura rabbia tristezza rancore odio invidia gelosia invece importante generare l'altra parte generare quelli che ci fanno star bene è uno dei punti fondamentali che la pratica buddista ci porta ci insegna ci ricorda è che noi siamo fatti di abitudini e se vogliamo andare in una certa direzione noi dobbiamo coltivare ciò che ci porta in quella direzione e dobbiamo togliere diminuire evitare ciò che porta nella direzione opposta perché anche fare due forze opposte non è tanto sano come idea non è che per dire mangio sano tutto quello non so se avete vi è mai capitato a voi o a qualcuno che avete visto di farsi il pranzo tutto no seguendo la dieta con magari anche addirittura quante calorie tutto il pranzo così finito il pranzo uno va lì si mangia un pezzo intero di cioccolata piuttosto che si fa il caffè con quattro cucchiaini di zucchero che ne so io no la dieta è nel pranzo non nel deserto non funziona ci deve essere coerenza no perciò è importante per noi avere questi due aspetti che vengono chiamati purificare che è a mettere apertamente i comportamenti che noi abbiamo che non vanno bene fisici verbali e mentali che noi spesso abbiamo fatto il weekend scorso ad albaniano parlando di purificazione però spesso abbiamo la sensazione che purificare è una cosa un po più sul mistico c'è in realtà la prima cosa che dobbiamo fare è quella di accogliere noi stessi e rivedere le nostre scelte le nostre azioni le nostre abitudini una questione di avere una vita sana e l'aspetto più malsano della nostra vita da dove vengono la maggioranza delle malattie dei tempi moderni in cui noi viviamo vengono dallo stile di vita che abbiamo praticamente fatte da noi la nostra gran maggioranza io le volte che ho sentito parlare degli esperti per esempio dei tumori gente che ha dedicato una vita a studiare ancora una vita a studiare il tumore le cause del cancro eccetera eccetera quando io ho chiesto ma qual è la causa del cancro quello che mi è stato detto è guarda se dovessimo dire qual è la causa del cancro l'unica cosa che potrei rispondere è lo stile di vita moderno non c'è un'altra risposta perché non c'è una causa unica è un insieme di cose che viene dallo stile di vita moderno e ci sono tantissime cose poi ovviamente è un somarsi di tanti fattori la vita come noi la viviamo nei tempi moderni su tanti aspetti non è una vita sana credo che questo noi stessi lo abbiamo già sperimentato no e purtroppo quello che accade è che noi abbiamo questa capacità incredibile di adattamento adattazione adattamento adattamento e dopo di un po ci sembra normale anche se non è normale dopo il normale intendo dire che sembra che non ci faccia più danno che non ci faccia male ma non è così come vivere in un luogo inquinato l'olfatto per esempio ha questa caratteristica che una volta mi hanno detto che dopo cinque minuti circa che uno senti un odore smette di sentire quell'odore dopo di un po non si abitua con l'odore questo non vuol dire un'altra volta l'olfatto a che cosa serve per discernere quello che abbiamo quello che ci fa bene quello che non ci fa bene eccetera come il palato ma noi ormai quella non le nostre facoltà l'abbiamo praticamente tagliate l'olfatto a che serve sentire dei buoni odori il gusto a mangiare delle cose buone quando in realtà sono gli strumenti che ci permettono di percepire la realtà che ci circonda e discernirla e quindi prendere delle decisioni però quello che accade è che come un sistema quasi che di autodifesa dopo di un po che sentiamo un cattivo odore ci abituiamo con quell'odore in qualche modo mi dispiace siamo a milano io voglio tanto bene milano ma la città puzza qualcuno dirà non è vero la prova che dopo di un po non si abitua io inizialmente non lo sentivo mai poi io c'è una capacità dell'olfatto che è proprio scarsissima però c'è stata una volta in particolare che non so cosa mi è successo ho fatto un trattamento di agupuntura il giorno prima l'unica cosa un po diversa che mi viene in mente che per un paio per un qualche giorno avevo l'olfatto che sentivo tutto e in mezzo a quello ero venuto a milano ed ero rimasto malissimo sentivo tanti di quegli odori io da quando ero bambino scherzavo sempre che quando andavo negli aeroporti che c'erano i duty free dicevo questo è il terrore delle puzze perché a me tutti quei profumi messi insieme a una puzza terribile non mi è mai piaciuto no e quella volta camminando ero ho dovuto camminare un bel po in città e camminando vedevo la gente passare sentivo il profumo di uno il profumo dell'altro e l'odore di pipì per strada e questo e quell'altro lo smog delle macchine una quantità di odori incredibile però c'è l'odore dello smog che quando noi lo sentiamo è un buon segno che noi non quello ormai non ci siamo così abituati a non sentirlo più se non diventa come una volta un amico che lavorava l'epoca viaggiando tantissimo tipo era un giorno a new york la settimana dopo a tokyo poi andava in l'europa poi ritornava sempre girando il mondo e un giorno andato dal medico per fare il check up generale aveva di alcuni problemini di salute di qua di là il medico ha detto ma tu viaggiando così tanto come fai per gestire il jet lag no ma io non ho jet lag e ha detto e lui tutto fiero no medico ha detto bruttissimo segno sei messo così male che non riesce neanche più a sentire i tuoi propri cicli sei così disconnesso da te stesso che non senti neanche più quello questo non è un buon segno perciò quello che accade che noi per esempio quando stiamo tanto in una cosa dopo di un po ci sembra normale quella cosa noi ci abituiamo per il fatto che io mi abitui all'inquinamento dell'aria non vuol dire che non continua a fare danno alla mia salute non so se è chiaro questo il fatto che io mi abitui a essere nervoso e mi sembri normale non vuol dire che non continui a farmi danno a me o a quelli intorno a me il fatto che mi sembri normale fare certe cose adesso non voglio entrare un fare tanti esempi se non sembra che non stai a puntare il dito sono diversi aspetti della nostra vita moderna industrializzata eccetera che lasciano tanto desiderare più che lasciano a desiderare hanno degli effetti collaterali negativi che non sono sani io ci sono certe cose che quando mi sono messo a pensare le prime volte sono rimasto abbastanza colpito così no uno degli esempi che ripeto spesso anche se non è il migliore esempio per me da dare perché non sono la miglior persona che segue quello che sto per dire sono una delle vittime di me stesso in questa cattiva abitudine però almeno cerco di vederlo con un po di chiarezza noi esseri umani abbiamo vissuto per quanto tempo senza luce artificiale? qualche centinaia d'anni? no qualche migliaia d'anni o qualche milione io direi sono milioni da quando l'essere umano esiste non facciamo la minima idea da quando sia sì c'è quello che si è studiato dice però sinceramente non lo so quanto tempo sia fatto sta che è da tantissimo 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 tempo che l'essere umano si è evoluto in sincronia con il giorno e la notte anche si dice che esiste una sorta di orologio a livello cellulare che entra in sincronia con il giorno e la notte gli organi per esempio riposano e riprendono l'energia in certi orari della notte noi siamo fatti per essere sveli di giorno e dormire di notte poi a un certo punto ci siamo sentiti iper speciali perché abbiamo possiamo rompere questo equilibrio quindi siamo sveli fino all'ora che vogliamo manteniamo la luce fino all'ora che vogliamo ci sveliamo a quel punto tardi quando vogliamo perché tanto possiamo stare sveli di notte tardi perché tanto abbiamo la luce quando vogliamo e siamo diventati belli speciali perché non dipendiamo più dei cicli della natura il problema è che nel tempo stiamo avvenendo un sacco di effetti colaterali negativi che secondo me vengono anche da questo c'è una parte dal mio punto di vista che riguarda anche la depressione che va bene il coronavirus ma quanto è diffusa la depressione? purtroppo ansia, depressione non lo so basta vedere quante sono le persone che hanno sofferto che soffrono che conoscono qualcuno che abbia sofferto che stia soffrendo di depressione o ansia meglio, c'è qualcuno che non conosce nessuno? no io mi ricordo anni fa circa 3-4 anni fa in Brasile mi avevano dato i dati dell'aumento che c'era stato negli anni precedenti del consumo di psicofarmaci ansiolitici si dice in italiano no? era una roba e antidepressivi ma principalmente gli ansiolitici era una roba spaventosa come si diceva che per esempio a San Paolo uno studio diceva che il 10% della popolazione che guida le macchine in città non era capace di guidare una macchina in città a San Paolo se non stesse sotto ansiolitici e dopo di un po' diventa tutto normale però il fatto che noi ci abituiamo non vuol dire che non continui a far male quindi lo stile di vita che noi abbiamo è fra questo il fatto di non dormire e non essere in sincronia col giorno e con la notte magari da qui a mille anni vivendo tra diecimila anni vivendo con un altro ritmo magari le generazioni future gradualmente si adattano a un modo diverso però da quanto tempo sono a cento anni che abbiamo luce artificiale il nostro corpo non è fatto per essere così è molto molto più sano svegliarsi con l'alba e andare a dormire appena dopo il tramonto molto più sano ma facciamo un'enorme fatica io per primo negli ultimi anni sono migliorato però in generale ho sempre fatto una grande fatica tutto questo io sto facendo alcuni esempi per arrivare al punto che se noi non vogliamo un certo tipo di risultato non dobbiamo creare un certo tipo di causa il fatto che noi ci abituiamo con qualcosa non vuol dire che non continui a generare le cause per certi effetti e risultati solo per concludere il discorso del dormire uno dei problemi in cui noi viviamo e voglio ribadirlo perché secondo me è un problema abbastanza serio ed è importante avere un po' di consapevolezza di questo è il discorso che noi abbiamo uno stile di vita nei tempi moderni in cui si è fatto una sorta di come si può dire confusione in cui si è confuso piacere con felicità ok stimolo dei sensi piacere intendo piaceri sensoriali stimolare i sensi con felicità ok la felicità è molto più conessa con uno stato interiore di soddisfazione parlando chimicamente mentre la felicità è più conessa con la dopamina e non con la serotonina in realtà ok quello che accade è che la felicità è molto più questo stato interiore di pace dove va tutto bene dove sono soddisfatto molto di più che lo stimolo sensoriale dei piaceri dei sensi perché poi c'è un discorso come funziona il piacere dei sensi più vado a stimolare i sensi quando finisce quel picco di piacere uno crolla e ha bisogno ancora di più ok c'è tutta la spiegazione chimica di questo che me l'hanno già spiegato un po' di volte ma non sono capace di ripeterlo di come funziona tutto questo però fatto sta che abbiamo uno stile di vita nel quale noi proiettiamo la nostra felicità nei piaceri abbiamo i piaceri estremamente accessibili basta vedere il modo in cui mangiamo ormai quasi tutti i giorni è Natale o no ormai arriva il Natale e dici oh no c'è quel cenone lì ma una volta a Natale era wow posso mangiare certe cose no o mi sbaglio abbiamo un accesso ai piaceri agli stimoli sensoriali abbastanza elevato se noi andessimo a paragonare questa generazione i tempi in cui noi viviamo oggi e quelli dei nostri noni l'accesso ai piaceri sensoriali è uguale o è cambiato? ma basta vedere quando io ero ragazzino vedere un film aspettavi un attimo c'era andavi al cinema e c'era da aspettare eccetera eccetera adesso anche quel piacere è finito più o meno perché uno ha tutto seguito lì però c'è uno stimolo continuo continuo qual è il problema che questo c'è che quando noi sperimentiamo una sensazione di piacere tramite gli stimoli sensoriali da quello che ho capito io dico da quello che ho capito io perché non è il mio campo noi consumiamo chimicamente serotonina quando noi nasciamo io non so esattamente da quando e per quanto fatto sta che noi veniamo con un certo bagaglio una sorta di riserva di serotonina fisicamente parlando e poi durante la vita noi continuiamo a generare serotonina ok quello che succede però è che abbiamo uno stile di vita con un altissimo livello di consumo di serotonina perché ogni volta che noi sperimentiamo uno stimolo sensoriale di piacere consumiamo serotonina quindi abbiamo un altissimo livello di consumo di serotonina per generare serotonina durante il giorno serve il precursore della serotonina che è la melatonina la melatonina si può generare unicamente di notte con un certo tipo di sono dormendo nel totale buio viene detto che anche la puntino rosso della tv spenta ci inibisce la possibilità di generare correttamente melatonina quindi chi dorme con una luce accesa in realtà diminuisce tantissima la possibilità di generare melatonina se io durante la notte precedente non genero melatonina durante il giorno non ho la base chimica per generare serotonina ok se sto con certi tipi di stimoli fino a una certa ora stimoli visivi con certi colori oggi come oggi ormai i cellulari i telecomputer eccetera dopo una certa ora mettono lo schermo un po' più giallo non so se vi siete accorti di questo che cambia il colore dello schermo spesso perché questo perché certi colori blu eccetera eccetera dopo una certa ora non permettono la generazione di melatonina creando problemi per il sono eccetera eccetera quindi abbiamo uno stile di vita che uno si autostimola con stimoli sensoriali quello che vede sente eccetera fino a che è stravolto prima di dormire praticamente succede così spesso quindi non si va a dormire in orari presto di solito si dorme anche abbastanza tarde con i stimoli fino a tardi stimoli visivi eccetera eccetera diminuendo moltissimo il modo in cui riusciamo a generare melatonina durante la notte questo vuol dire che riusciamo a generare molto meno serotonina durante il giorno quindi generiamo meno serotonina ma consumiamo tantissimo questo che cosa vuol dire che arriva un momento che c'è un deficit arriva un momento nel quale io voglio consumare ma non c'è più è finita e a questo punto che cosa succede quando finisce una risorsa chimica non c'è dove trovarla e quindi uno va in depressione chimica uno non entra in depressione perché gli è successo qualcosa in famiglia e sempre di più c'era uno studio che mi era stato detto io non l'ho letto personalmente mi è stato raccontato dell'organizzazione mondiale della sanità fatto pubblicato tantissimi anni fa che diceva che nell'anno 2020 o 2030 io mi ricordavo il 2020 sembrava lontano quando ho visto la prima volta ma anche se fosse il 2030 lo stesso alla fine che la principale causa di morte sarebbero state la depressione a causa di questo processo di depressione chimica e tutte le malattie che vengono di conseguenza e quindi cosa si fa oggi visto che non riusciamo a produrre bene la serotonina eccetera uno comincia a prendere pasticche per sostituire che non funziona in certi casi va bene ma non risolve del tutto io dico se le pasticche facessero tutti felice io sono il primo io sto bene per mio però se questo risolvessi non avrei molto più facile che stare lì a meditare se vuoi essere felice prendi questa pasticche con quella con quella con quell'altra ti fa essere felice bene ma purtroppo non funziona così e ce ne abbiamo provato come società però abbiamo visto che non funziona così io non sono contrario a qualunque tipo di medicina sia essa anche i psicofarmaci io sono sicuro che ci sono certe situazioni certi casi dove danno il loro giusto sostegno e sono necessari però ho discusso diverse volte con medici alla fine chi comanda è la mente se non c'è un percorso psicologico di generare certi stati emotivi che vanno a generare quello stato chimico anche dopo di un po' non regge ma se non c'è un cambio di stile di vita non si potrà avere un risultato se non ci sono le cause e non potrò evitare un certo risultato se non smetto di coltivarne le cause credo di essere abbastanza chiaro no? magari fin troppo in qualche modo però il punto è vogliamo una vita sana dobbiamo creare nelle cause e noi le cose le sappiamo vediamo con l'ambiente l'altro giorno ho visto questo bellissimo documentario il nome è Rivederle Stele di un amico nostro Emanuele che ha fatto questo documentario e c'era la prima parte all'inizio che mi ha colpito profondamente dove anni fa è stato il primo glaciale che è morto in Islanda e dove c'era questo grande glaciale che non c'è più in pochi anni ha scomparso hanno lasciato una targa dove c'è scritto adesso non mi ricordo le parole precise però qualcosa come qui come se fosse proprio in un cimitero qui un giorno c'è stato un glaciale eccetera eccetera e poi il punto principale che dicevano era si prevede che nei prossimi duecento anni tutti i glaciali della terra spariranno per cause che noi sappiamo quale sono e abbiamo come evitarli quindi questa targa è qua per ricordare a coloro che ci saranno in futuro che noi sapevamo che questo accadrebbe e noi avevamo i mezzi per evitarlo chiaro qualcuno mi dirà ma io cosa centro io non sono il governo io non sono proprietario di una multinazionale io non sono questo quello o quell'altro noi cosa centriamo noi centriamo tantissimo perché quello che io faccio ha un impatto su tutto quello che c'è intorno a me però se noi non vogliamo un certo tipo di risultato non dobbiamo crearne le cause e la cosa che è difficile in questo è cambiare le abitudini perché cambiare un'abitudine in qualche modo ci costa io ho visto anni fa sono andato dal medico era a pranzo con un medico e lui mi ha dato dei consigli molto pratici per un problema di salute che avevo lui ha detto per sei mesi non deve toccare la farina non deve mangiare assolutamente nulla di crudo e niente di freddo mi ha dato delle cose e io ho detto e io ho detto e la pasta no e come faccio vivo in Italia e poi c'erano diverse cose che non potevo eccetera ho seguito perfettamente quello che lui mi ha detto e sono stato bene ma qual'era la fatica è che ho un'abitudine ma come faccio a vivere senza quello vivendo senza quello punto quello che mi ha risolto perché all'inizio era un po' faticosa l'idea dopo di un po' ho fatto la seguente ragionamento perché mangio io mangio perché ho bisogno o mangio perché mi piace io personalmente mangio perché ho bisogno perché secondo me sarebbe molto meglio la vita se uno non dovessi proprio mangiare quanto tempo risparmiamo e lavoro e cucinare e questo e quella una cosa lavare i piatti c'è un'enormità di cose che girano intorno al mangiare io mangio perché ho bisogno non mangio perché mi piace mangiare se mangio perché ho bisogno devo mangiare quello di cui ho bisogno questo è stato quello che mi ha fatto un cambiamento totale ero davanti al cibo che cosa mangio quello che ho bisogno che cosa che ho bisogno questo è quello questo mi fa male per me è veleno per te no perché hai una costituzione diversa per me è veleno quindi non lo mangio punto però c'è fatica dietro perché cambiare le abitudini non è facile ma se noi non riusciamo a fare il collegamento fra presente e futuro continueremo a coltivare ciò di cui ci siamo in modo abituati su certi stili di vita malsani da un punto di vista fisico da un punto di vista del modo in cui mangiamo in cui dormiamo in cui consumiamo non solo il cibo ma le immagini i suoni e così via che poi dopo pagheremo il prezzo nel tempo si dice che così ho sentito dire che nei tempi in cui viviamo è vero che l'età media si è allungata le persone oggi tendono a vivere di più che 40 50 anni fa o no però allo stesso tempo che l'età media si è allungata la età in cui cominciano le malattie croniche è diminuita quindi prima le persone fino a poco tempo fa vivevano meno ma erano sani per tempo più lungo poi a un certo punto si amalavano e morivano in tempi più brevi oggi quello che succede è che riusciamo a trascinare per un tempo più lungo questa vita ma cominciamo con malattie croniche prima questo perché perché abbiamo uno stile di vita malsano il nostro compito non è cercare il modo per guarire la malattia o per togliere il dolore il nostro compito è capire come sostenere e coltivare la salute io c'ho ancora questo sogno che un giorno magari riusciremo da qualche parte nel mondo a riprendere a ricrearlo che era quello di ritornare a come avveniva in Cina circa 3000 anni fa riguardo la medicina e più in particolare riguardo il rapporto con il medico 3000 anni fa in Cina il medico erano i medici di famiglia era molto ben strutturato l'aspetto del medico nel rapporto nella società e c'erano i medici un po' simile come oggi in Italia sono i medici di famiglia quindi ogni medico era responsabile per un certo numero di persone e di famiglie però il medico veniva pagato ogni mese da tutti i suoi pazienti finché erano in salute il giorno che uno si amala smette di pagare quindi cosa facevano i medici cambio di stagione adesso sta entrando la primavera non so avete mai ricevuto una chiamata dal vostro medico dicendo sta arrivando la primavera state attenti con le allergie non mangiare questo dovete rinforzare il fegato non so qualcuno ha mai ricevuto una chiamata dal medico per dire questo io no e conosco medici bravissimi all'epoca si incina il classico era che il medico andava di casa in casa e faceva le campagne di prevenzione perché se lui sapendo che stava per arrivare la primavera ed è un periodo che il fegato va più in difficoltà eccetera eccetera le allergie questo quell'altro poi avevano i loro mezzi per capire come stava andando quell'anno quali erano i pericoli eccetera il medico mica voleva rimanere senza soldi quindi cosa faceva prendeva cura della salute perché il compito del medico non era prendere cura della malattia ma prendere cura della salute e c'è una differenza enorme fra guarire malattia e coltivare salute perché la salute non è una cosa che non è il risultato della mancanza di malattia la salute è il risultato di una vita sana con tante caratteristiche diciamo che fra la mancanza di malattia e lo stato di buona salute c'è un gap in mezzo c'è uno spazio in mezzo fra uno stato di malattia mentale di uno stato di forte disagio emozionale ha uno stato di una mente un'emozione sana c'è uno spazio in mezzo perciò io ritengo che nella nostra vita noi dobbiamo coltivare la salute fisica mentale emozionale ambientale la stessa cosa della pace fra il conflitto la guerra il conflitto è la pace pace intesa anche come armonia e in mezzo c'è la mancanza del conflitto e fino ad arrivare all'armonia c'è un passaggio basta pensare nel vostro rapporto con le altre persone c'è un'enorme differenza fra non essere in conflitto diretto ed essere in armonia o no? per rimanere in armonia con qualcuno basta non andare in conflitto o l'armonia va coltivata va coltivata e così è perciò la pace l'armonia la salute è faticoso dobbiamo investire energia in quello sono risultati esperienze risultati che non vengono dal nulla vanno coltivati come tutto d'altronde perciò partiamo da questo presupposto che se voglio avere certi risultati devo coltivare le cause che poi gradualmente nel tempo mi daranno quei risultati non è una cosa immediata se no diventa come io ho già visto qualcuno che dice adesso mi è venuto il tumore il polmone ma proprio adesso che ho smesso di fumare non avessi mai smesso come se la causa del tumore è stato aver smesso di fumare e non quei tre pacchetti di sigarette al giorno per 40 anni perché quando la malattia si manifesta vuol dire che le cause spesso sono lì già da tanto tempo che si accumulano perciò dove voglio arrivare che noi dobbiamo evitare ciò che ci fa male riconoscere ciò che ci fa male ed evitarlo anche se per noi ci sembra già normale anche se ci siamo in qualche modo abituati non è per quello che non continua a farci male e dall'altra parte diventa molto importante vedere che cosa ci fa bene e coltivarlo queste due parti vengono chiamate in un termine più chiamiamo così religioso purificare il karma negativo e i veleni mentali karma e azione abitudine condizionamenti veleni mentali sono i condizionamenti e le abitudini interne dobbiamo essere consapevoli e ridirezionare le nostre azioni e le nostre abitudini impegnarci di non ripeterle più e viene detto di corpo parola e mente la nostra condotta fisica che è il nostro modo di mangiare di dormire di interagire con gli altri come noi viviamo col corpo come interagiamo con il corpo come utilizziamo la nostra parola che è la nostra comunicazione la parola non è solo la parola verbale è anche quella scritta come noi comunichiamo con il mondo e poi come pensiamo a questi tre livelli cosa faccio che non va bene devo ridirezionarmi e poi dall'altra parte quali sono gli aspetti invece che mi fanno bene e quelli io devo coltivare devo accumulare meriti è il termine che viene utilizzato che è un termine che non funziona bene nella nostra cultura accumulare meriti sembra come i punti dell'essere lunga non lo so o del carrefour scelette il supermercato che volete però non sto qua per fare pubblicità di nessuno anche perché preferisco il mercato del sabato libero però al di là di quello quello che succede che cos'è non è che quando noi parliamo di accumulare meriti è come se fossero i punti che uno guadagna ho fatto più punti tipo no facendo i mantra accumuli meriti quanti punti ho fatto oggi no non è quello il concetto di accumulare meriti si usa questo termine perché non esiste traduzione in italiano o in inglese o in portoghese per dire dal termine in sanscrito pugna o sonam in tibetano il significato di questo che viene tradotto come meriti sono accumulare cause di felicità e benessere di pace il cosiddetto karma negativo sono le cause che come risultato generano sofferenza il cosiddetto karma positivo azioni virtuose positive meriti chiamiamo come vogliamo è ciò che quando manifesti il risultato porterà felicità benessere pace in altre parole uno stile di vita sano va coltivato e lo stile di vita malsano va abbandonato e si comincia dal corpo per passare alla parola per arrivare alla mente prima di tutto dobbiamo cominciare dalla nostra condotta fisica inutile stare a parlare della motivazione dei sentimenti delle emozioni di qua e di là quando io non riesco a star zitto quando devo star zitto quando non riesco a usare bene il mio corpo nella mia condotta nella relazione che ho da un punto di vista più grossolano prima dobbiamo controllare le nostre attitudini fisiche poi quelle verbali poi arrivare a quelle mentali in tutto questo però c'è uno dei punti che è quello dove volevo arrivare oggi che riguarda il fatto che nell'accumulare energia positiva nell'accumulare le cause per poter star bene per il benessere per la felicità per uno stato di salute di benessere fra queste cause viene detto che una delle principali è il dono è la generosità la generosità viene citata in tantissimi testi tantissimi maestri per secoli partire da Buddha Shakyamuni spiegano la generosità come una delle azioni che genera le migliori cause per sperimentare pace benessere e felicità sia a livello personale che a livello come società come gruppo anche come coppia se per quello basta pensare due persone insieme io sono generoso con te tu sei generoso generosa con me che cosa vuol dire essere generoso vuol dire che innanzitutto io ci tengo alla tua felicità perché un atto di generosità vuol dire quando io condivido qualcosa che io possiedo con te affinché tu sia felice perciò se io sono generoso con te vuol dire innanzitutto che io mi permetto di vedere te perché per essere generoso per dare qualcosa che tu hai bisogno io non sto dando a te quello che io voglio dare io sto dando a te quello di cui tu hai bisogno quindi quello ho bisogno di vederti ho bisogno di come si può dire vederti essere consapevole delle tue necessità e non delle mie necessità nel dare qualcosa a te non so se è chiaro questo ok e già questo richiede una certa maturità non è un atto così facile così semplice molto spesso io vedo che noi vogliamo dare agli altri aiuto materiale aiuto emozionale sono diversi tipi di generosità ma noi vogliamo dare aiutare l'altro perché in qualche modo sentiamo la necessità di aiutare quasi come se fosse per togliere da noi il peso di vedere quella sofferenza e non star facendo nulla ok certe volte uno vuole dare aiutare perché perché vuole togliersi da dosso un certo peso quindi in realtà non è che io voglio dare e aiutare perché voglio che tu stia bene perché io non voglio star male scusate se sono un po' critico in questo senso però credo che sia abbastanza chiaro perciò quando parliamo della generosità parte prima di tutto dalla nostra capacità di permettere a noi stessi dico permettere perché non viene così facile e spontaneo di guardare vedere l'altro e vedere cosa tu hai bisogno la tua felicità è importante per me la tua sofferenza è importante per me di che cosa tu hai bisogno in che modo che posso interagire con te che ti posso aiutare uno dei grandi errori che certe volte facciamo noi cerchiamo di aiutare l'altro come se l'altro fosse come noi quindi io voglio dare a te quello che io vorrei se fossi nella tua posizione di solito non funziona io vedo per me personalmente ho avuto una volta delle esperienze che mi hanno fatto vedere questa dinamica in me stesso io come ho detto altre volte io ho un problema fisico che io non posso mettermi con i piedi scalzi in un posto umido o freddo che poi ho dei dolori non sto bene e quindi quando vedo qualcuno scalzo in un posto umido o freddo poverino poi devo fermarmi e dire non siamo uguali sono persone che stanno bene così però la nostra tendenza è vedere l'altro come se fosse noi stessi quindi quando io vedo l'altro io voglio dare l'altro voglio aiutare l'altro pensando che l'altro abbia le stesse necessità che ho io quando non è sempre così o meglio raramente così quindi per la generosità una delle prime cose è permetterci di vedere l'altro di capire mettersi con l'attitudine di umiltà dove io non ho la pretesa che io so che cosa tu hai bisogno e come deve essere uno degli esempi di quello che accade è quando ci sono per esempio grandi aiuti umanitari dove si arrivano a dare delle cose che non hanno nulla a che vedere con la vera necessità delle persone che sono dall'altra parte questo è uno degli errori che spero che sia sempre di meno ma che per tantissimo tempo le grandi organizzazioni occidentali hanno avuto quando andavano in luoghi di culture totalmente diverse chi lavora in questo ambito ha una infinità di storia da raccontare per questo quindi le cose vanno messe dentro un contesto eccetera è come in un paese in Africa non mi ricordo esattamente dove era dove avevano fatto un campo di rifugiati enormi e avevano fatto tutti i bagni messi in un posto con il muro dipinto di verde hanno fatto per fare una cosa carina hanno dipinto di verde eccetera eccetera però hanno fatto due errori basici nessuno andava nei bagni per in realtà tre ragioni non andavano nei bagni prima ragione era stessa messa nella posizione in direzione a Mecca seconda cosa era di color verde che il colore sacro quindi era una mancanza di rispetto alla propria religione assurda andare nei bagni lì terza ragione hanno messo in un posto un po' lontano dal centro abitato del campo di rifugiati per una ragione igienica immagino io però di notte nel buio senza luce per le donne era pericoloso muoversi e quindi nessuno andava nei bagni quindi questo che cosa vuol dire? che se io devo aiutare te devo capire te devo mettermi nei tuoi pani devo comprendere la tua cultura il tuo modo di essere la tua necessità quindi per aiutare te io ho bisogno di avere umiltà la umiltà intesa proprio come non avere la pretesa che io so quale è la cosa migliore per te ma io devo permettermi in qualche modo di vederti di conoscerti immaginiamo due persone pensate a qualunque persona che vi venga in mente che può essere da un vostro genitore figlio amico marito moglie qualunque persona come sarebbe se fra queste due persone fra noi e l'altro ci fosse un sentimento sincero di generosità da noi a loro a lei e da loro a noi praticamente il conflitto non c'è più tanto spazio per manifestarsi perché la tua felicità è importante per me e la mia felicità è importante per me io mi adatto alla tua realtà tu te l'adatti a mia e troviamo un punto d'incontro inevitabilmente l'opposto è io ho l'arroganza della pretesa di sapere come il mondo è anche tu figuriamoci quindi una delle cause per la felicità per la pace è la generosità ed è la prima che viene citata però quando noi andiamo ad agire con generosità noi stiamo creando delle cause per poter sperimentare pace benessere gioia eccetera quindi non è per nulla che quando Buddha ha descritto le qualità che dobbiamo sviluppare nel nostro percorso spirituale la prima che Buddha ha descritto oltre che l'amore che è la base l'amore e la compassione sono la base poi le qualità da sviluppare su questa base la prima è la generosità anche perché per sviluppare le altre come la saggezza o la concentrazione o lo sforzo entusiastico e altre qualità richiedono una base di energia positiva generata di cause virtuose chiamiamo così per questo che uno comincia con la generosità e la generosità esiste di quattro tipi ed è importante vedere questi quattro tipi di generosità non solamente pensando a quello che noi dobbiamo dare agli altri ma anche a come prendere cura di noi stessi perché esistono quattro tipi di generosità perché ognuno di noi abbiamo bisogno di quattro tipi di bisogni diversi e questi quattro tipi di bisogni sono graduali per dire il quarto è quello più profondo è quello più importante ma se non c'è il terzo non può esserci il quarto se non c'è il secondo non ci può essere il terzo e se non c'è il primo non ci può essere il secondo quindi è un crescendo prima devo avere la prima base poi c'è la prossima finché arrivo in alto e di solito la mancanza del primo è a causa della mancanza dell'ultimo non so se è chiaro vi spiego meglio la prima necessità che noi abbiamo è la necessità fisica materiale se non ho da mangiare se vivo in mezzo al freddo non ho un posto dove dormire se mi trovo in mezzo a delle difficoltà fisiche non ho spazio per altro non so quanti di noi che siamo oggi qui ci siamo mai nella vita trovati in uno stato di reale necessità fisica io no sono stato in momenti in cui ho dovuto aspettare delle ore infinite per mangiare perché non c'era quando ho fatto una volta 57 ore in treno più altre 24 ore in pullman tutto uno insieme all'altro sapeva cosa si mangiava però c'era da mangiare alla fine eri stanco perché dormivi seduto da tre giorni ma in qualche modo c'avevi un posto dove riposare no però io non ho mai avuto questa situazione di non aver il minimo necessario per sopravvivere e credo che la stragran maggioranza di noi non ha mai sperimentato una cosa del genere e quello che accade è che quando non c'è quella base diventa difficile prendere cura della seconda necessità che è quella emozionale prima di tutto abbiamo una necessità materiale fisica io ho già visto situazioni racconti di persone che per esempio nella fame nella povertà estrema magari tolgono qualcosa dai propri fili storie dove i genitori vendono i fili uno può dire ma come può essere possibile questo quando la prima necessità non è coperta meno è coperta la prima necessità meno uno ha accesso e riesce a coprire la seconda che è quella emotiva e riesce ad avere accesso a quello la parte è così prioritario avere da mangiare è così prioritario poter sopravvivere che quell'istinto è più forte di qualunque altra cosa a un certo punto è come se uno fosse avesse una sorta di anestesia un'anestesia dalla sofferenza di certi generi perché c'è così tanta sofferenza su altri livelli che sei triste cosa stai dicendo io non ho da mangiare prima la fame poi andiamo a vedere la tristezza il rancore non ti è piaciuto perché ho detto sei rimasto male non c'è spazio per questo più di tanto non che queste cose non ci siano non avvengono vuol dire che uno che non ha da mangiare non ha sentimenti non vuol dire quello però non c'è la base per poter soddisfare le necessità emotive quando non c'è il minimo necessario materialmente quindi prima dobbiamo coprire le necessità materiali poi poi abbiamo le nostre necessità emozionali difficilmente riusciremo a essere aperti per un livello più profondo arrivando al quarto punto che sono le nostre necessità spirituali se non abbiamo un minimo delle nostre necessità emozionali coperte se noi viviamo in uno stato dove c'è conflitto dove non c'è un minimo di armonia dove abbiamo tanti rancori tanti conflitti emozionali quello che io vedo è che tantissimo tantissime volte succede scusate che oggi non ho molti peli sulle lingue nel senso che senza molti filtri molto spesso quando ci avviciniamo a un sentiero spirituale la necessità più presente è una necessità emozionale non è una necessità spirituale perché in realtà per poter crescere in un percorso spirituale in un modo più profondo se noi quando andiamo a vedere gli insegnamenti di buddha andiamo a vedere il percorso spirituale che comincia con quello che viene chiamato la cosiddetta rinuncia la certezza di poter emergere dalla sofferenza del samsara eccetera per cominciare da quello sviluppare la bodhicitta eccetera alla base richiede uno stato emozionale stabile e quando noi vediamo molto spesso utilizziamo la parte gli strumenti all'interno del buddismo perché cosa io devo guarire il dolore che ho con mia madre o con mio padre o con il mio figlio o sono litigato non riesco a mettere l'anima in pace perché mio marito o la mia moglie mi ha tradito e ancora oggi non riesco ad accettarlo abbiamo tanti livelli di conflitti e cose che finché quello non è pacificato non riusciamo ad andare a un livello più profondo non che nel frattempo non si possano fare dei gran passi non sto dicendo quello però c'è una parte del percorso spirituale che comincia sulla base di uno stato di stabilità emozionale ok e con questo assolutamente io non sto dicendo che uno che non ha raggiunto quella stabilità emozionale non può far nulla nel sentiero spirituale non sto dicendo quello al contrario molto spesso uno si avvicina a un percorso spirituale a causa di una instabilità emozionale e alla fine dei conti quando vedi ha intrapreso un percorso suo quel problema emozionale si è guarito però continua quel percorso con tanti effetti positivi intorno c'era un periodo adesso già non più tanto però c'era un periodo che arrivavano tante persone vicino al centro perché si erano lasciato col fidanzato la fidanzata eccetera eccetera c'era stato un periodo particolare di quello e quindi la persona arrivava perché si era lasciata nel suo rapporto di coppia tutta la sua storia amorosa non c'era più e di qua di là e quindi si avvicinava al dharma la meditazione perché voleva star bene voleva uscire da quella sofferenza e succedeva spesso che passavano degli anni del tempo e uno aveva trovato qualcuno era risolto quel problema no però stava bene però invece è entrato un'altra parte di percorso imparato altre cose cresciute in un altro modo quindi va bene che uno certe volte intraprenda un percorso a partire di una necessità emozionale però per crescere a livello spirituale prima abbiamo bisogno di risolvere le cose a livello emozionale abbiamo bisogno di avere un minimo di stabilità a livello emozionale ok perciò prima abbiamo il livello materiale poi emozionale poi c'è una parte che si chiama la sicurezza io posso essere una persona abbastanza equilibrata emotivamente avere ciò che è necessario per sopravvivere eccetera ma se vivo in un contesto dove ho paura di essere ucciso sono in mezzo a una guerra che purtroppo non c'è solo la guerra in Ucraina sono più di 70 i conflitti armati che ci sono oggi nel pianeta se vivo in una situazione ma non c'è neanche bisogno di andare a una guerra io mi ricordo per esempio purtroppo tante persone in una città come San Paolo io conosco tante persone che vivono in uno stato di alerta perché ogni volta che uno esce di casa dopo essere stato magari rapinato una volta due volte non dico la rapina mano armata dico essere stato preso in macchina con la pistola in testa di qua io conosco un'enormità di gente che ha vissuto questo quando esce per strada il corpo trema da solo senza che pensi a nulla di particolare in questo stato difficilmente uno riesce anche a trovare l'equilibrio necessario per la crescita spirituale per questo le generosità sono di quattro tipi dare materialmente dare affetto amore dare protezione e poi dare il percorso spirituale dare il dharma ok quindi quando perché ci sono quattro forme di generosità non si potrebbe dire dai subito il dharma perché il dharma è ciò che permette è il percorso spirituale che permette lo sviluppo delle qualità interne la trasformazione della persona se la persona sviluppa saggezza soddisfazione equilibrio pace tutto il resto si risolve è vero quando una persona è equilibrata con se stessa eccetera quando sta bene con se stessa trova poi dopo il modo per risolvere i problemi per non avere più la paura per risolvere i problemi emotivi non c'è la base per queste altre difficoltà per poter sostenersi però per prendere cura di queste necessità prima dobbiamo superare le altre quindi anche nei nostri propri confronti è importante fare questo c'è un punto anche qua che però dobbiamo stare un pochettino attenti ognuna di queste quattro necessità che noi abbiamo vanno viste fino a qual punto arriva perché se no esiste un pericolo che noi abbiamo una necessità per una volta che abbiamo coperto la necessità andiamo oltre e non passiamo il passo successivo per esempio quanto tempo e spazio della nostra vita fisico verbale mentale tempo materiale noi consumiamo della vita per la prima necessità materiale per dire non lo so io quello che vedo è che uno passa una gran parte della vita dedicando prima si studia per lavorare perché non lo so quello che si studia a scuola è si studia per lavorare o si studia per vivere uno stile di vita sano si studia per lavorare la forma come la scuola è strutturata è per fare in modo che dopo uno sia pronto per il mercato di lavoro perché se tu prendi uno un bambino che è cresciuto non lo so mi viene in mente in una tribù dove ha imparato le cose che servono lì cacciando facendo tutte le migliaia di cose complesse difficili che è lì se tu prendi uno che non ha passato tutta l'infanzia otto ore al giorno seduto su una sedia e a un certo punto tu gli dici prendi il lavoro ti pago tanto stai seduto chiuso in una scatola scatola perché siamo chiusi in una scatola seduto otto ore al giorno non è capace e se lo fa è una tortura noi arriviamo alla fine della scuola che star seduti otto ore al giorno su una sedia ci sembra normale o no siamo in qualche modo stati allenati per quello e non è che questa è una cattiveria è il mercato del lavoro è il sistema della società in cui viviamo ma quello che voglio dire è che gran parte della vita di quello che noi impariamo a scuola è dedicato per il mercato del lavoro poi dedichiamo una buona parte della nostra vita per il lavoro nulla contro questo viviamo in una società complessa dobbiamo scambiarci ci sono tanti aspetti importantissimi io sono molto favorevole al lavoro non sto dicendo che il lavoro è una cosa sbagliata al contrario io sono per me un gran lavoratore mi piace fare le cose non sto dicendo che uno non debba lavorare però fatto sta che si dedica gran parte della vita per la parte materiale il lavoro secondo me ci sono due cose esiste il lavoro inteso come scambio per beni materiali esiste il lavoro inteso come utilizzare le proprie risorse mentali fisiche materiali per interagire fare delle cose che uno ritenga che sono di beneficio importanti eccetera la differenza che c'è è che nel primo caso io faccio le cose per ottenere un risultato materiale nel secondo io faccio non per il risultato materiale ma per il risultato umano chiamiamo così che ci sia di quell'interazione ed è quello che io da ragazzino ho visto questa vita e mi è sembrata troppo squalida questo scusate se lo dico così però quando l'ho visto io vengo da una famiglia abbastanza benestante non mi è mai mancato nulla vedevo intorno a me persone che soldi non li mancava assolutamente fatto le migliori scuole le migliori università guardavo che cosa alla fine hanno in mano va bene c'è la casa bellissime montagne la casa al mare l'aereo privato di tutto visto in questo senso ma alla fine mancava una sostanza che è la soddisfazione la pace la gioia quindi io un pensiero che ho sempre avuto e continuo ad avere è la mia vita è troppo preziosa per consumarla con qualcosa che non mi porta il ritorno che io vorrei io sono pienamente sicuro che se io avessi bisogno di utilizzare il mio tempo per fare uno scambio per avere da mangiare lo farei ed è giusto è degno farlo non dico che sia una cosa che non va bene il problema è che noi creiamo tante di quelle necessità materiali in più che alla fine dei conti consumiamo la nostra vita per poter consumare quei prodotti e il sistema in cui noi viviamo la Magan ce lo definiva il cappello di cuoio bagnato lo diceva questo non per gli occidentali l'ho visto dire questo ai tibetani diverse volte su un ipote quando è venuto a vivere in Italia e altre agli inizi tutti contentissimi di venire in occidente che bel posto che ricchezza che questo che quell'altro eccetera a un certo punto ok cominciano a avere il lavoro stabile all'inizio è tutta una cosa che bello posso comprare questo posso comprare quell'altro c'è di qua c'è di là eccetera eccetera dopo di un po' cominciano a vedere fra tutte le tasse che devo pagare tutte le cose che devo fare eccetera eccetera non ho più tempo per questo non ho più tempo per quello non posso di qua la vita comincia a restringersi per quello che la manganza diceva è un capello di cuoio bagnato che quando tu prendi un capello fatto in cuoio quando è bagnato lo metti è bello confortevole quando comincia ad asciugarsi si restringe e comincia a far male quindi noi viviamo in una realtà dove da una parte sembra che sia tutto bello confortevole dall'altra parte in qualche modo noi viviamo per usufruire di quel comfort quindi il punto è quanto tempo della mia vita io vado a dedicare e quale livello di priorità che io sto dando per la prima necessità che è quella materiale perché la necessità più profonda che è quella che può sostenere uno stato di pace di gioia è quella spirituale per arrivare a quella spirituale devo avere sicurezza essere libero da paure per questo devo essere prima uno stato di stabilità emozionale rapporti sani con le persone con me stesso e per questo io devo prima avere una stabilità materiale però certe volte noi proiettiamo tutto sul primo e trascuriamo quelli livelli che ci sono dopo perciò va benissimo prendere cura delle cose materiali ma quanto tempo quanta energia io do a questo l'altro giorno stavo sentendo un un audiolibro più o meno mi stavo volevo stavo cercando di capire un po' delle varie cose storiche e così via e c'era una parte nel quale stavo ascoltando un po' quali erano i principi del comunismo e c'era lì uno dei concetti di Marx che era molto interessante dove lui diceva che quello che ho capito io a quello che lui diceva non so ma quello che ho capito io che lo sviluppo dell'umanità non dipende dalla cultura dalla spiritualità ma prima di tutto dalla produzione materiale e il sintetico ha ragione perché se delle quattro necessità non ho la prima coperta non riuscirò a sviluppare l'altra però il punto è che la prima necessità deve essere lì per servire quelle che vengono dopo non dobbiamo litigare in famiglia perché c'è da mangiare per tutti quindi proprio perché c'è da mangiare per tutti possiamo coltivare un rapporto più armonioso fra di noi che mi permette di non avere la mia mente totalmente presa e occupata dai litigi dai conflitti dai rancori e così via e quando riesco a vivere in un contesto armonioso sicuro a questo punto io ho la calma e lo spazio interiore per poter autoosservarmi sviluppare consapevolezza poter sviluppare più concentrazione e coltivare le mie qualità interne cosiddette spirituali però che parte da una necessità materiale è vero se non c'è la necessità materiale coperta non si può sviluppare la parte culturale artistica spirituale e tutto il resto il problema è che noi siamo rimasti spesso intrappolati nella prima e siamo andati ben oltre quello che è la nostra necessità e continuiamo a mettere lì e quando quello che abbiamo non è nello stesso livello in cui noi ci siamo abituati anche se ben oltre la nostra necessità sembra una tragedia non so se è chiaro questo io faccio un esempio banale dei giorni d'oggi ok c'è un aumento nel costo del gas non so se vi siete accorti immagino basta che o no abbia qualunque cosa che fare io questi giorni con la costruzione del tempio ho a che fare con tante cose è così mi sono ricordato la mia infanzia in Brasile quando ero piccolino che la mia nonna mi dava la paghetta in dollari e ho sei anni e mi ha insegnato a vedere il cambio del dollaro perché avevamo un'inflazione di più di 30% al mese quindi adesso in questo momento mi ha ricordato un po' l'infanzia su certe cose però qual è il punto ok non posso permettermi di spendere così tanto devo diminuire il riscaldamento sarà così difficile io a me mi è sempre piaciuto il caldo però da un anno in mezzo a questa parte circa un anno a questa parte ho cominciato a diminuire il riscaldamento a casa non per una ragione economica in realtà ma perché con la cagnolina la maitre oltre 20 gradi per lei è troppo caldo e visto che sta dentro di casa esce quando esce sempre però sta anche dentro di casa ho messo la casa 18 agli inizi freddo metti un maglioncino no che problema c'è ah fa un po' freddo metti un altro maglioncino una coperta in più una borsa dell'acqua calda beviti una tisana calda è inverno no e dopo un anno oggi per me i 18 gradi sono anche alti quasi mi sono abituato ormai io che volevo avere 23 a casa prima mi sono abituato dopo un anno all'inizio è stato un po' faticoso ma quello che voglio dire è che noi spesso abbiamo dei comfort in più che non è che diminuire quello ci toglie la qualità di vita è un fatto di abitudini è un fatto di permetterci anche di cambiare certe abitudini vedere che molto spesso noi siamo abituati a voler coltivare un livello che è molto oltre la nostra reale necessità io non sono contrario al comfort o a questo o a quell'altro non sto dicendo dobbiamo tutti avere una vita spartana non è quello il punto è per mantenere tutti questo comfort quanto spazio della nostra vita viene consumato da quello quando la stabilità materiale dovrebbe essere una base per servire quella emotiva dei rapporti fra le persone che è la base per dopo poter dare sicurezza che è la base per poter avere un buono sviluppo spirituale culturale artistico eccetera ok perciò non stiamo a puntare il dito addosso agli altri guardiamo noi stessi io devo essere generoso con me stesso e poi devo essere generoso anche con gli altri nell'essere generoso con me qual è la prima cosa che ho detto quando dobbiamo essere generoso con gli altri prima di tutto dobbiamo vedere l'altro e capire qual è la sua necessità non so se avete mai visto un conflitto in famiglia dove uno dice all'altro di solito è più l'uomo verso la donna è più una cosa il rapporto fra uomo e donna è più comune così dice ah ma tu non mi ami più ma con tutto quello che ti pago non lo so non lo so se avete in mente questo dialogo in qualche modo no e l'altro dice ma no io quello che voglio non sono i soldi va bene voglio anche quelli però mi manca una carezza mi manca l'affetto questo quell'altro perché dopo che hai già dato la copertura materiale non basta più serve quella emozionale emotiva affettiva che è fondamentale quella parte lì quindi di noi con noi stessi dobbiamo prima cosa capire qual è la nostra necessità perché se noi diamo qualcosa che non è quello di cui abbiamo bisogno non soddisfa se quello di cui l'altro ha bisogno è affetto io continuo a dar diamanti per il quanto possa piacere i diamanti non riesci a soddisfare la necessità che c'è chiaro perciò dobbiamo vedere qual è il nostro livello di necessità dove siamo noi ognuno di noi guarda se stesso sono in un livello delle quattro necessità qual è la necessità in cui mi trovo quella mia materiale è coperto o no quello di cui ho bisogno per sopravvivere in un modo con un minimo di comfort ce l'ho o no per se non ho la certezza vado a chiesti il passo fame riesco a nutrire bene il mio corpo prendere cura della mia salute se io mi permetto se io mi permetto di seguire le cose giuste ho i mezzi per farlo materiali ho i mezzi per proteggermi dal freddo e dal caldo se ho queste cose vivere in un luogo sicuro perché non avere un luogo dove vivere anche questo è bello faticoso purtroppo c'è tanta gente che si trova in questi stati quindi ho la prima necessità coperta o no sì ok quindi vuol dire che io per essere generoso con me stesso io non devo essere generoso con me stesso materialmente perché per il quanto che mi piaccia comprare delle cose nuove non andranno a soddisfare la mia necessità perché la mia necessità non è quella quindi è vero che quando sono triste compro un paio di scarpe piuttosto chissà quale altra cosa e mi sento un po' meglio perché non lo so se avete mai comprato qualcosa in un momento per sopprire una necessità emotiva sì o no sì no ormai non deve neanche uscire di casa poi arriva il pacco non sai neanche come è arrivato sembra Babbo Natale che è passato davanti a casa non so se avete mai comprato qualcosa e quando è arrivato non vi ricordavate che l'avete comprato ok però la domanda è se io ho una necessità a livello emotivo mi manco bisogno di affetto bisogno di amore bisogno di stabilità emozionale bisogno di questo non importa quanto io riesca a darmi piaceri momentanei materiali non vanno a suprire quello ok perciò se la mia necessità non è materiale non è con la generosità materiale che vado a soddisfare questo è già un punto di chiarezza quindi quale è il livello di cui ho bisogno ho bisogno a livello emozionale perché sento che mi sento solo mi sento ho più ansia un po' di paura mi sento che sono che non posso fidarmi degli altri mi sento abbandonato ci sono degli stati in cui non sono in pace con me stesso qual è uno dei segni quando uno emotivamente non sta bene quando stai da solo e non stai bene quando sei con gli altri non riesci a star bene con gli altri ok quando va tutto bene e non va tutto bene quando soffriamo di più di quello che è si dice facciamo una tempesta in un piccolo bicchier d'acqua per modo di dire e vediamo che siamo ipersensibili dinanzi alle cose eccetera eccetera cosa che lo conosciamo tutti in un modo in un altro quindi ho bisogno di quello che a questo punto devo essere generoso con me a livello affettivo emozionale a questo punto cosa faccio non basta materialmente non funziona quindi io prima cosa devo ascoltare me stesso permettermi di vedere che cosa sta succedendo dentro di me dov'è che c'è il dolore che va accolto se noi non ci permettiamo di accogliere i nostri dolori e direzionarci difficilmente riusciremo a risolvere perciò dobbiamo accoglierci chiedere aiuto a questo livello anche avere qualcuno con cui possiamo parlare dall'amico al psicologo ci sono tanti modi diversi per poterlo fare però dobbiamo prendere cura dedicare del tempo e dello spazio a noi stessi perché uno dei modi di essere generosi con noi è dandoci tempo dedicandoci spazio dedicandoci tempo la mia necessità è materiale dedico tempo a me materialmente la mia necessità è emotiva devo prendermi cura emotivamente camminare in mezzo alla natura dedicare tempo a fare quello che mi aiuta a sentirmi meglio emotivamente la mia necessità è che non mi sento al sicuro o in un contesto dove non sono in un contesto che non riesco a rilassarmi devo essere generoso con me nel crearmi sicurezza poi una volta che io ho tutto questo e vedo che la mia necessità è che la vita non ha più senso fatta così perché ho un buon rapporto con gli altri come se sto abbastanza bene però vedo che comunque alla fine dei conti tutto questo non mi porta nulla di particolare voglio dare senso alla vita a questo punto devo essere generoso con me spiritualmente devo dedicarmi del tempo per rendere questa vita significativa per crescere le mie qualità per permettermi di amare gli altri e crescere come persona per prendere cura di me da questo punto di vista spirituale nello stesso modo quando vedo un'altra persona io mi chiedo cosa hai bisogno io devo dare a te a secondo di quello che io riesco a vedere di quello di cui tu hai bisogno non è che io per forza dovrò per forza capire ma cerco almeno di capirlo e quando noi ci permettiamo di vedere qual è il bisogno del momento dov'è che possiamo interagire per aiutare e mettiamo energia in quella direzione questo crea le cause per la gioia per la pace per il benessere perché io posso dare tantissimo a te ma se ti sto dando quello di cui tu non hai bisogno non sto coltivando le cause per la gioia la pace e l'armonia fra di noi e per te l'esempio che abbiamo fatto prima per il quanto che io possa darti materialmente ma non è di quello di cui tu hai bisogno per il quanto che a te ti possa piacere i regali che riceve per il quanto all'altra persona possa piacere avere la casa bella e la macchina nuova ogni sei mesi e lei di qua e tutti i lussi e i comfort e di qua e di là ma di quello di cui ha bisogno non è quello per il quanto possa piacere quello ma di quello di cui ha bisogno non è quello finché non riceve quello di cui ha bisogno continuerà a essere in questo stato di insoddisfazione di conflitto non riempirà mai e la stessa cosa accade di noi con noi stessi perciò una domanda che è importante ma non facile da trovare la risposta non immediato è guardando verso l'altro cosa hai bisogno guardando verso di me cosa io ho bisogno e sulla base di quello che noi vediamo qual è il bisogno dobbiamo donare dobbiamo agire ok in fondo in fondo abbiamo tutti i bisogni della parte spirituale ma prima di arrivare a quella dobbiamo coprire altre necessità io vedo per esempio che questo è qualcosa che nella tradizione cristiana cristiana molto spesso si è saputo molto bene prima di dare la parte della religione cosa si facevano i missionari qua in Italia non credo che ci sono stati tanti missionari in Italia non avete vissuto tanto questo in Brasile sì in tante altre parti sì c'è una parte che è ok io ti do aiuti fisici materiali e poi quando vedo che quella tua necessità è coperta ti do la parte religiosa nel buddismo c'è una parte diversa perché non esiste il concetto di proselitismo quindi non c'è il concetto di voler convertire un altro a io l'ultima cosa che intendo è che il mondo sarà un mondo migliore se saranno tutti buddisti non credo in questo io credo che sarà un mondo migliore se avremo tutti più soddisfazione più amore più rispetto più gratitudine se siamo più in pace con noi stessi e con gli altri quello sì questo non vuol dire che siamo tutti buddisti ogni tanto guardo dei paesi detti buddisti le cose che succedono e dico basta vedere in Birmania e non è colpa perché è un paese buddista non sto dicendo quello ma solo per dire avere l'etichetta di paese buddista non risolve la vita ma anche avere l'etichetta personale di buddista vestirsi da buddista parlare da buddista fare tutto da buddista non risolve la vita quello che risolve è riconoscere i bisogni agire dove ci bisogno coltivare amore soddisfazione umiltà pace rispetto questo è quello che risolve ok quindi cerchiamo di essere generosi di coltivare la generosità nei nostri confronti e innanzitutto nei confronti degli altri però partiamo anche da noi stessi perché noi siamo generosi con noi stessi noi ci diamo un sacco di cose passiamo la vita intera prendendo cura di noi però molto spesso noi stiamo dando tantissimo a noi senza chiederci veramente che cosa di cui abbiamo bisogno qual è l'esempio che abbiamo fatto prima in una coppia dove uno dà all'altro quello di cui non ha bisogno e alla fine manca il rapporto in qualche modo perché c'è una parte vuota che rimane mancante noi facciamo lo stesso con noi stessi molto spesso perciò ci chiediamo di che cosa bisogno e diamo priorità a quello ok che vuol dire per esempio magari avere meno tempo per guadagnare più soldi su certe cose e dare più tempo per poter fare quello che ci nutre interiormente perché magari ho già abbastanza materialmente però c'è una parte di me che è abbandonata che non è nutrita e lo so che questo è un equilibrio difficile perché viviamo in una società che non è così ovvio non è che dico ok faccio meno ore di lavoro al giorno qua si va in Brasile si dice 880 880 per dire il giorno che dico non lavoro più faccio delle ore in meno e il caso dice ok non lavori più e quello a quel punto uno può cadere facilmente nel bisogno materiale non coperto però al di là di questo equilibrio che in un modo si trova noi dobbiamo prima di tutto guardare verso noi stessi e chiederci io di che cosa ho bisogno quattro tipi di necessità a quale livello mi trovo e va benissimo qualunque dei quattro livelli ci troviamo va benissimo dobbiamo accogliere quel livello lì e poi dare agli altri non perché io voglio essere colui o colei che dà ma perché io ci tengo a te è chiara la differenza ok perciò consapevolmente coltiviamo il futuro che vogliamo vivere creiamo le cause per ciò che vogliamo vivere e probabilmente quando vivremo quei risultati non ci ricorderemo neanche più delle cause che abbiamo creato e non faremo neanche i collegamenti ma va bene però esiste una coerenza fra quello che faccio e quello che sperimento e se voglio avere certi risultati devo coltivare quelle cause probabilmente quando vado lì e riesco a mantenere una certa dieta a vivere la vita in un certo modo sano poi più avanti anni dopo quando mi sentirò sano forte stabile mica mi ricordo di quegli momenti lì probabilmente non collego neanche una cosa con l'altra ma sono state tutte quelle piccole azioni che hanno permesso quello perciò partiamo da questo presupposto da questa base cause portano risultati e c'è una coerenza fra cause e risultati cerchiamo di diminuire di evitare ciò che coltivando genera malessere e sofferenza e cerchiamo di coltivare ciò che ci fa sta bene ciò che ci aiuta a star bene per noi e per gli altri sia per noi stessi sia per noi come membri di una società di un pianeta cercare di essere un'interdipendenza positiva nel mondo in cui noi viviamo questo è già tantissimo ok facciamo le nostre dediche anche per oggi io vi ringrazio di essere qui di una delle ragioni per la quale io sempre ringrazio è che veramente se non fosse per voi io non avrei l'opportunità io stesso di riflettere su tante di queste cose ricordarmeli perché molto spesso nella quotidianità noi ci dimentichiamo e per me questi momenti che noi passiamo insieme io non li vedo assolutamente come un momento in cui io mi trovo a insegnare qualcosa ma più che altro un momento in cui facciamo un momento di riflessione congiunta viene chiamato meditazione analitica in certi casi ma è dove noi ci ricordiamo di cose che nella maggioranza delle volte già sappiamo però che abbiamo bisogno di ricordarsi ricordarci per metterli in pratica per riportare queste cose per riconnetterci con quello che ha senso nella vita quello che è più importante e quindi il fatto che io sono in questo ruolo di dover più che di dover ma di condividere di guidare di insegnare chiamiamo come vogliamo questo mi dà a me l'opportunità di riflettere di rivedere e che per me è una cosa bellissima e grandiosa quindi io ho una profonda gratitudine a tutti voi di permettermi questo percorso di permettere questo processo anche per me quindi io quando vengo ogni volta ogni settimana dal bagnano qui non è mai stato un sacrificio e mi impegno che non lo dovrà mai essere al contrario è una gioia non per una cosa di piacere di sensazione ma perché avere questo momento in cui noi ci fermiamo dalle varie cose della quotidianità e con sincerità ci guardiamo negli occhi e riflettiamo su delle cose che sono importanti è una cosa abbastanza preziosa importante io ricevo tanto per questo che vi ringrazio di essere qui con come si dice no essere qua con il cuore aperto e la mente chiara ok facciamo le nostre dediche quando facciamo le dediche vuol dire che noi raccogliamo l'energia positiva generata e la dedichiamo per qualcosa la direzioniamo per qualcosa io volevo direzionare in particolar modo per la pace ma non intendo la mancanza di guerra anche se quella dovrebbe esserci ovunque la mancanza di guerra ma perché ci sia pace nella mente di coloro che fanno la guerra che fanno i conflitti che vivono con violenza dedicare perché veramente possa la violenza interiore possa essere pacificata prima di qualunque altra cosa ricordandoci come la mancanza ci diceva che la pace interiore è il più solido fondamento per la pace del mondo quindi affinché ci sia pace interiore nel cuore di ognuno senza eccezione che fanno i conflitti che fanno i conflitti l'alba 17. 2. L'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possono i tre gioieli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e costruire il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a tutti